L'Abruzzo si colloca al quarto posto in Italia per povertà educativa di bambini adolescenti. Sui gradini più alti del podio ci sono Sicilia e Campania, quali peggiori in assoluto. La classifica si basa sulla scarsa e inadeguata offerta di servizi e opportunità educative e formative. Pochissime le scuole della nostra regione che offrono tempo pieno immensa. Solo il 10% dei bambini tra 0 e 2 anni accede a un asilo pubblico. Secondo l'Ox e Pisa il 58% degli studenti frequenta scuole dotate di infrastrutture insufficienti a garantire l'approfondimento. Dato positivo invece è il basso tasso di dispersione scolastica. La campagna di Save the Children promuove un'iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione. I bambini più poveri, quelli che residono nelle zone con maggiori difficoltà economiche, i figli degli immigrati, tutti quei bambini di famiglie meno abbienti che hanno difficoltà ad avere un'educazione completa e piena. Sarà la Novissi Onlus di Pescara a ospitare l'evento in programma per il 12 maggio che offrirà laboratori creativi gratuiti per genitori e bambini intitolato il Topo di Campagna e il Topo di Città. La Novissi abitualmente svolge attività educativa nei propri locali, in Viale Bovio. E quindi la campagna di Save the Children entra a far parte di un'attività che la Novissi svolge regolarmente.